Ciao ragazzi, prima che in questo video voglio informare che ho aperto un nuovo contest per tutti i miei iscritti e tutti i miei supportatori Per partecipare basta andare nel negozio oggetti, cliccare sul tasto supporto a un creatore e inserire newton 17118 Dopodichè mandarmi una foto su instagram, idratisino basso newton Ci sono tre estrazioni, la prima verrà fatta a raggiungimento dei 50 supportatori, uno di voi riceverà una skin a sua scelta La seconda estrazione verrà fatta a 75 supportatori, due di voi riceveranno una skin a sua scelta E la terza ha 100 supportatori e tre di voi riceveranno una skin a sua scelta Detto ciò, buona visione Ciao ragazzi, qui in questo nuovo video In questo video devo vedere una sfida, delle sfide a tempo straordinario della season 9 Che usciranno alle 3, ma io ve le sto portando appunto in anteprima E consiste di fare gol in un campo da calcio al coperto Questo è appunto il campo da calcio in questione Basta venire qui e segnare a uno delle porte Mi ricordo che questa sfida sarà appunto bloccabile da R3 di questo oggi E quindi niente, alla prossima